Da sempre il desiderio principale di chi si avvicina al mondo del disegno è quello di imparare a disegnare il ritratto. E' anche vero che una delle cose più difficili per un disegnatore è proprio la ritrattistica, perché non è facile saper riconoscere i lineamenti di un soggetto cogliendone l'espressione e saperle riportare sul foglio. E per chi vuole imparare a disegnare dei ritratti, ecco l'ebook Il Manuale del Ritratto, una pratica a guida che affronta questo percorso tortuoso in maniera semplice, guidandoti passo dopo passo attraverso più di 150 illustrazioni a colori e 129 pagine pronte a chiarirti e a rivelarti tutti i segreti. Ma per gli iscritti al canale ci riserva una bella sorpresa, un'offerta che comprende due ebook Il Manuale del Ritratto e Il Manuale Conoscere l'Anatomia Artistica, che permette un approfondimento anatomico del volto umano. Attraverso un approccio meno scientifico, visto che un aspirante disegnatore o un artista è più interessato al lato estetico che a quello anatomico scientifico. E solo gli iscritti a questo canale potranno acquistare due ebook a 9,90€. L'offerta è valida per un breve periodo e sotto al video trovate il link. Per qualsiasi domanda la potete fare tranquillamente nei commenti, se ancora non vi siete iscritti al canale non dimenticate di farlo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!